Ho detto che sempre quando sono in squadra nuova riesco sempre a segnare il primo gol, quindi sono contento che sono riuscito anche in questa davanti tifosteria incredibile. Voglio augurare buon compleanno perché hanno un compleanno, sono contento per loro. Lì abbiamo recuperato la palla in centrocampo, poi aveva gas la palla e mi ha preparato benissimo. Poi io sono riuscito a mettere la forza giusta e la palla finita in rete. Loro hanno giocato due partite competitive, noi invece prima, però come ho detto sempre con queste squadre fai fatica perché loro giocano la partita della vita, per loro praticamente è un top, quindi sì abbiamo fatto fatica però alla fine è importante sempre vincere. Le movimenti che chiede il mister sono molto diversi da quello che ho fatto l'anno scorso oppure addirittura questi quattro anni professionisti che ho fatto, però piano piano sto imparando e penso che sta imparando tutta la squadra perché ci sono tanti giocatori nuovi e abbiamo bisogno di qualche tempo però penso che un mese fa abbiamo migliorato tantissimo. Giochiamo di nuovo davanti alla nostra tifosteria quindi sicuramente dobbiamo portare qualche punto e dobbiamo entrare con il piede giusto in campionato.